E poi Rorschach fa... Son mattarello! E ho pensato fosse divertente! Mmm... Ah sì? Hai visto il teaser del nuovo Elder Scrolls? Cosa? Ne sta uscendo uno nuovo davvero? Wow! Gli amati gli ultimi due! Sì, ma non si vede un granché. C'è solo un anziano che parla fuori campo. Cielo, non vedo l'ora di vederlo! Non ricominciare, esageri troppo quando vedi un nuovo trailer. Che? Non è vero! Ma essi solo di uno hanno timore. Nella loro lingua è Duvakin, il sangue di drago. Santo Dio! Che cos'è? Questo è un dono divin! Sono adesso, o forse no! Sta arrivando Skyrim! Partirò e volerò in una nuova avventura! Addio madre, addio padre, addio quinta misura! Partirò, Azeroth! Ci vediamo Hyrule! Men andrò al biondi, me non burlerai più! Dopo tutta questa merda, finalmente sono qui! A cercare il mio destino, nella grande Skyrim! A tutti i seguaci del mio canale YouTube, grazie per avermi seguito nei miei primi cento video! Io sono direi che ci vediamo qui! Allora! 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 Grazie.